Il prossimo oratore è l'onorevole Adinolfi, Isabella. E l'Unione Europea è percepita dai cittadini come distante e non democraticamente legittimata. Riguardo la disciplina del diritto d'autore, mi corrego a quanto hanno già chiesto i miei colleghi, vorrei chiedere cosa intende, precisamente, almeno così c'è stato tradotto in italiano, quando parla di tutela stabile del diritto d'autore. E se ritiene che la protezione del diritto d'autore, seppur necessaria da un lato, debba essere temperata dall'altro, ad esempio tramite il principio del cosiddetto fair use, per tutelare quindi una serie di diritti fondamentali come la libertà di espressione e la libera manifestazione del pensiero. Grazie. Ovviamente, per alcuni stati membri, Bruxelles e Strasburgo sono molto lontane. Però, in una democrazia rappresentativa, tutti quanti voi rappresentate i cittadini europei. E io so che molti deputati prendono sul serio il loro lavoro, quindi sono molto vicini ai loro cittadini. Quindi, la proposta sui diritti d'autore non la presento soltanto a voi, per consultarvi soltanto con voi, ma prima, in uno stadio grezzo, cioè prima di finalizzarla, la discuterò con tutti quanti voi. Io ho promesso di fare questo e l'ho fatto anche per alcune proposte sulla legislazione energetica, l'ho fatto incontrando gruppi politici. E penso di sapere che ci sono 20-30 colleghi che hanno un interesse particolare sui diritti d'autore, quindi sono disposto a parlare nel dettaglio dei singoli articoli di questa normativa. Quindi, la proposta preferisco concertarla prima con il Parlamento europeo, previamente, anziché farla morire con i dibattiti in una fase successiva qui al Parlamento. E per quanto l'Unione europea possa essere lontana dai cittadini europei, devo dire che tutti i contatti sono disponibili online per chi ha interesse nei confronti dei diritti d'autore. Negli ultimi mesi mi sono pervenute moltissime proposte online sul tema dei diritti d'autore, le ho ricevute proprio dai cittadini. Grazie. Grazie.